buongiorno a tutti a tutti mi chiamo sandro natalini sono autore e illustratore di libri per voi per bambine per bambini e ho pubblicato circa 60 liberi sia come autore che come illustratore ma non solo in italia ma sono anche usciti all'estero in giappone negli stati uniti persino in australia e in corea nel 2019 ho vinto il premio anderson per il miglior albo fatto ad arte con questa insolita particolarissima versione di cappuccetto rosso con i pittogrammi ma sono qui per farvi per mostrarvi in anteprima il mio ultimo libro su cui poi lavoreremo insieme anzi giocheremo insieme a cuneo che è il frullastorie un libro molto particolare perché se si agita ben bene poi all'interno troverete dei personaggi che si possono mischiare e creare tantissime storie quindi questo è un libro che proprio aiuta la fantasia dei bambini e delle bambine a diventare degli storyteller dei racconta storie è divertente anche proprio il fatto che ci sono le fascette e aiuta appunto a creare situazioni insolite particolari che possono sviluppare la fantasia ci vediamo a presto un saluto da me da sandoro e sono contento che ci vedremo a scrittori in città ciao